Musica L'incontro della nona giornata tra Rosso Blu di Monte Giorgio e di Pergola si chiude con un secco successo dei padroni di casa. Netto il gap tra le due compagini, gli uomini di Finucci hanno comandato il lungo e il largo per tutta la durata della contesa e principalmente nei primi settanta della gara. Riesce quindi ad ottenere così i tre punti la formazione fermana al quarto successo stagionale mentre per i persaresi ancora un altro passo falso ed una posizione di classifica al penultimo posto con cinque punti che comincia a diventare assai pericolosa. Al settimo i padroni di casa reclamano per una trattenuta ai danni di Pucci da parte di un difensore ospite, susseguente ad uno spiovente dalla destra. Il risultato si sblocca al ventunesimo, azione simile a quella precedente ma con esito diverso. Da Ruggeri a Marini, lancio in aria pesarese, va a vuoto Righi e questa volta sbarbati non perdona. Vantaggio Monge Giorgio realizzato dall'ex fidardense. Preferisce sviluppare il gioco sempre sul settore sinistro il Monte Giorgio. Al ventisettesimo riceve Palla Peminella che si inventa il tiro della domenica e di controbalzo insacca per la seconda volta Piagnarelli. Poco dopo la mezz'ora ancora pericolosa la formazione di casa. Dalla sinistra si è centra sbarbati, entra in aria. La sua conclusione va a stibilare il palo destro dell'estremo difensore ospite. Nella ripresa al quarto la prima opportunità ospite. Bello il rilancio che finisce sui piedi di Gorini che però viene murato dal difensore locale al momento della conclusione. Il terzo sigillo locale al quindicesimo al termine di una corale manovra locale. Cross di Marini cerca l'inzuccata sbarbati, smannaccia il portiere ospite. Si continua a giocare, riceve Pucci. Quest'ultimo compie la magia liberandosi nello stretto di un paio di avversari. Mette di nuovo al centro Paes Barbati, liberissimo. E questa volta c'è la doppietta personale dell'attaccante Rosso Blu. I padroni di casa trovano la rete della bandiera, 75esimo con l'ex Cremisi ed Urbania Cinotti, dopo aver ricevuto da Gorini di piatto in sacca alle spalle di Falcetelli.